In dieci anni di vita, grazie al vostro aiuto, abbiamo aperto, avviato e consegnato studio d'ontoiatrici per chi ne aveva bisogno, donato una clinica mobile ai bimbi colpiti dalla guerra, costruito strutture finalizzate al progresso e alla dignità della persona, costruendo pozzi e orfanatrofi. Aiutarli a casa loro? In tanti lo dicono, e noi lo facciamo. Aiuta le opere della carovana del sorriso, con il tuo aiuto economico, o dona il tuo 5 per 1000, quello che per te è solo una firma, per questi bimbi può rappresentare il futuro.